rapina a casa del calciatore del milan teo hernandez è successo martedì sera verso le 20 quando almeno quattro malviventi si sono introdotti nella villetta nella zona residenziale di cassano maniago si sono trovati di fronte alla compagna zoe cristofori e al piccolo teo che ha soli sei mesi i balordi non si sono fatti scrupoli e hanno malmenato la donna che poi aperte la cassaforte consegnando loro diverse migliaia di euro al momento l'entità della rapina è in fase di quantificazione oggi è una giornata abbastanza convulsa nella villetta di cassano maniago che il calciatore ha acquistato qualche mese fa da un proprietario che aveva vissuto qua quattro anni e non era mai accaduto niente